Io studio scienze politiche alla LUIS di Roma, sono un grande appassionato di politica, ho fatto politica al liceo, sono stato rappresentante dell'istituto al liceo Tasso di Roma, che è un liceo classico che sta in zona Piazza Fiume. Io ho detto che sono un appassionato di politica e credo che questo sia il momento in cui tante persone che sono rimaste nell'ombra o che comunque non hanno ancora avuto l'opportunità di mettersi in gioco, ecco, credo che questo sia il momento giusto per farlo, nell'interesse ovviamente del Paese e della nostra comunità. Mi sono candidato all'ultima tornata elettorale sul mio municipio, questa è stata una bella esperienza per me ovviamente, ma il vero focus di oggi, ovviamente, quell'esperienza mi porta a avere più, come posso dire, più consapevolezza di quello che si può fare e quello che non si può fare, però il vero focus di oggi deve rimanere una manifestazione, al di là dei colori politici, al di là delle bandiere di partito, un interesse generale che è quello di continuare la politica di Mario Draghi. Ma in realtà nasce in maniera assolutamente spontanea, diciamo che è un momento forse così di disperazione, sì, per la situazione che si trova a vivere nel nostro Paese in questo momento. Ho scritto un appello su Facebook, mi sono fatto una locandina con qualche mio amico e abbiamo lanciato quest'idea, quest'idea di una mobilitazione spontanea sulla scia di quello che sta succedendo anche in altre città italiane, Milano, Firenze, una mobilitazione spontanea di ragazzi o comunque di qualsiasi tipo di persona che può essere interessata a far emergere quello che è il sentimento del Paese, ovvero la volontà di continuare nel percorso di riforme, nel percorso di governo con Mario Draghi, non ci possiamo permettere di perderlo. No, io non mi aspetto che tutti stiano dalla nostra parte, però credo che chi sta dalla nostra parte, ovvero la maggioranza del Paese, sia chiamata a un senso di responsabilità, sia chiamata ad esprimere la sua voce, se non ora, quando del resto. Per il resto ovviamente i dissensi sono sempre possibili, anzi sono il succo del nostro mondo, della nostra politica. Tuttavia chi si vuole mettere in cammino deve muoversi e deve farlo adesso, perché del resto mercoledì potrebbe già essere troppo tardi. La manifestazione è nata come un'iniziativa spontanea e mi sono messo a organizzarla con i miei amici con cui ho fatto politica al liceo e quelli con cui ho condiviso poi delle esperienze successive. C'è stato subito, devo dire, un buon riscontro a livello di personalità che si sono interessate al caso, come non potrebbe essere così e in questo senso accolgo molto volentieri le volontà di ognuno che si voglia interessare a fare politica in questo senso, senza bandiere di partito, senza nomi di partiti, con un interesse generale da difendere. Ovviamente noi ci rivolgiamo a quelle che sono le forze che con più coraggio e più forza hanno sostenuto il governo Draghi. Di tutta evidenza ho ricevuto comunque delle volontà di partecipare da parte, sì, ho detto di Italia Viva, ma allo stesso tempo anche di altre forze politiche, altri parlamentari, altri politici del territorio che si sono interessati al caso. Non è l'unico governo possibile, nel senso che abbiamo visto qualsiasi cosa che è successa in questa legislatura e ci possiamo aspettare qualsiasi cosa. Che sia l'opzione migliore, anzi, l'unica opzione possibile, certamente sì. Ci vorrebbe una grande presa di responsabilità da parte di soggetti politici che ancora una volta hanno messo il proprio interesse partitico prima di quello che è l'interesse del Paese, ma ovviamente questo non può semplicemente bastare per ricucire uno strappo che si è verificato in questi giorni. Credo che ci debba essere una manifestazione di volontà forte da parte di tutta la comunità, di tutto il nostro Paese, delle persone che vogliono impegnarsi, dell'Italia seria, dell'Italia del fare, che prova a mettersi in cammino e prova ad uscire da tutte le situazioni difficili che stiamo vivendo a livello politico, crisi energetica, aumento dei prezzi, inflazione al 10%, sono cose che colpiscono in primis le persone che si trovano ad essere più in condizioni peggiori. Non è possibile aspettarci che siano i partiti, sempre e solo i partiti, a scegliere quella che è la via. Devono essere le persone che si mobilitano e che scelgono una parte piuttosto che un'altra, che scelgono il lavoro invece di stare ad aspettare che qualcosa accada, che scelgono di mettersi in cammino. Ovviamente che chi fa assaltare un governo in una situazione del genere è da definire il responsabile. Tra l'altro io vorrei sottolineare, visto che come abbiamo detto prima mi sono candidato a Roma, vorrei sottolineare il fatto che il pretesto con cui è stato fatto cadere il governo, evidentemente per motivi politici da parte di un partito politico, è stato ritrovato nel termo valorizzatore a Roma. Adesso siamo in un parco, chiunque si può girare e quando avanti abbiamo dei cassonetti vede qual è la situazione dell'immondizia a Roma. Rifiutarsi di affrontare questo tema e dare delle risposte come quella del termo valorizzatore è inaccettabile. Non c'è stata da parte dell'amministrazione negli ultimi tempi sulla città di Roma, non c'è stata una proposta alternativa a quella del termo valorizzatore. Bloccare la città, bloccare il paese per una situazione del genere è sinceramente raccapricciante, devo dire la verità. Io credo che aver creato le condizioni perché Draghi arrivasse è già stata una forte presa di responsabilità da parte del Parlamento. Deve essere questo lo spirito seguito e il Parlamento e le forze politiche devono seguire quella che è l'esperienza Draghi che ha portato il paese a uscire dalla pandemia fino ad adesso e adesso disegnare un nuovo orizzonte. Mario Draghi è politica, è politica tutto ciò che sta nelle istituzioni ma anche tutto ciò che sta fuori dalle istituzioni. Mario Draghi è politica, è politica fare le cose, è politica, come diceva Cile De Gasperi, è politica fare le cose. Chiunque si occupa della comunità fa politica, quindi non lo vede come un fallimento della politica. Forse è fallimento di una certa parte politica che non si assume le responsabilità delle proprie scelte, beh quello sì, certamente sì. No, non sta nascendo nessun comitato, vediamo che cosa succederà domani in piazza ma non credo che l'indirizzo della nostra iniziativa non è quello di creare un soggetto politico, un movimento, un comitato che possa indirizzare in qualche modo le coscienze. Credo che adesso bisogna pensare a breve termine, bisogna pensare a risolvere la questione entro mercoledì. Spero che le piazze di Roma, Milano, Torino, Firenze diano un'indicazione chiara anche al Presidente Draghi e spero che se questo avrà successo, allora avremo raggiunto comunque l'obiettivo. Beh, ci sarebbero molte cose da dire al Presidente Draghi, intanto forse ci sarebbe da dire grazie sotto alcuni punti di vista, grazie di essersi preso la responsabilità più di un anno e mezzo fa di mettersi in gioco e fare il Presidente del Consiglio e scusi per la situazione che probabilmente si trova a vivere di una classe politica assolutamente inadeguata. Questo è quello che avrei da dire, probabilmente non avrei nulla da chiedere, avrei semplicemente tanto da ascoltare e poco da parlare.